Così come previsto dal piano sicurezza per Ferragosto varato al tavolo del prefetto di Salerno Francesco Russo nell'ambito di diverse riunioni del comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico, i carabinieri del comando provinciale di Salerno con la polizia sono pronti a mettersi al lavoro agli ordini del colonnello Filippo Melchiorre. Uomini e mezzi dovranno garantire su strade, in città, in ambiti diversi affidati anche ai reparti speciali controlli specifici con un unico obiettivo, la sicurezza a 360 gradi. Comandante, puoi illustrarci i dettagli del piano operativo con il quale i carabinieri garantiranno sicurezza durante il periodo di Ferragosto? Sì, come ogni anno abbiamo predisposto a un specifico piano che coinvolge sia la componente territoriale sia la componente dei reparti speciali. È chiaro che l'afflusso dei turisti o soltanto lo spostamento crea delle esigenze. A questo si aggiungono eventi pubblici di pubblico spettacolo con ovvie esigenze di ordine pubblico. D'intesa, con la questura abbiamo organizzato e stirato questo piano che prevede un rinforzo nel controllo del territorio con specifiche pattuglie. Abbiamo sempre l'assetto antiterrorismo attivo per ovviamente situazioni emergenziali. C'è una specifica attenzione soprattutto sui reati predatori e sulle truffe. Ci saranno poi in azione anche reparti speciali che concentreranno, comandante, le proprie attività in controlli specifici? Sì, ogni reparto speciale ovviamente ha una campagna specifica nel periodo estivo. Ritengo giusto evidenziare l'attività dei NAS, quindi con l'attività antisofisticazione alimentare, quindi soprattutto negli esercizi di ristorazione o comunque di apertura e somministrazione di bevande. Purtroppo capita di dover sequestrare delle bevande, ovvero del cibo che ovviamente non ha i prescritti vincoli di controllo. È un'attività specifica da parte del NIL, quindi del nucleo che è specificamente attento alla tutela del lavoro e quindi soprattutto per quanto riguarda purtroppo il fenomeno del lavoro nero. E non da ultimo, ma in questo periodo ovviamente l'attenzione è molto elevata per quanto riguarda la tutela forestale. Abbiamo in atto, ovviamente la componente forestale dell'arma ha in atto due centri operativi, uno a Salno e uno nel Cilentro, con diverse decine di uomini impiegati giornalmente per della prevenzione, ovviamente della segnalazione di eventuali incendi. Fortunatamente per ora quest'anno sta registrando un netto calo rispetto all'anno scorso.